Per la ricostruzione arrivano nuovi criteri operativi per l'assegnazione delle pratiche e cambia pure il cronoprogramma, dando priorità alle prime case. Il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alla ricostruzione privata Vittorio Fabrizi hanno illustrato i contenuti della delibera di giunta che fissa dei nuovi paletti per l'assegnazione delle pratiche e di conseguenza cambia pure il cronoprogramma degli interventi in città e nelle frazioni. Il provvedimento su cui stiamo lavorando da tempo, ha detto il sindaco Biondi, nasce da una constatazione, negli ultimi mesi sono state poche le schede parametriche parte seconda depositate. Questo dipende, ha spiegato il primo cittadino, in parte dal fatto che la ricostruzione più sostanziosa si avvia a conclusione e dunque si fa sempre più fatica a trovare consorziati che ci mettano la stessa grinta. In parte però, ha detto pure il sindaco, il problema è legato ai ritardi dei tecnici nella presentazione delle pratiche. Ad oggi, su schede parametriche parte prima istruite, non sono state presentate nei termini dei 90 giorni ben 391 schede parametriche parte seconda, per un importo che supera il mezzo miliardo di euro. Per questo, ha detto Biondi, stiamo cercando di intervenire puntando l'attenzione sulle pratiche che presumibilmente suscitano maggiore attenzione, cioè quelle sulla ricostruzione delle prime case, ha sottolineato il sindaco. Contestualmente si sta lavorando ad un emendamento sblocca l'Aquila, in sinergia con gli ordini professionali, le associazioni di categoria, gli assessori dirigenti, per introdurre un principio di penalità nelle fasi intermedie dei processi. La legge Barca ha già previsto delle penalità che riguardano tuttavia la fase iniziale, quella che va dal riconoscimento del contributo all'avvio dei lavori e la fase finale del processo. Eventuali ritardi rispetto al termine di ultimazione delle opere non sono previste penalità, invece, per coloro che nella fase intermedia non presentano le schede parametriche che parte seconda nei tempi stabiliti. La delibera è già esecutiva. Gli uffici della ricostruzione dovranno stilare il nuovo cronoprogramma in base alle modifiche dei coefficienti e trasmetterlo poi all'ufficio speciale che proseguirà nelle istruttorie. Ci vorranno almeno un paio di settimane. L'altra novità è la possibilità di presentare progetti unitari in particolare per ciò che attiene le frazioni che sono più indietro nei processi di ricostruzione. Poi le penalità per i professionisti. Più che di penalità però hanno voluto parlare di incentivo. La leva finanziaria ce l'abbiamo noi, ha detto Fabrizi. Passati 90 giorni stabiliti dalle norme per la consegna delle schede parametriche parte seconda, ci dovessero essere ulteriori ritardi superiore ai quattro mesi. Il pagamento della progettazione verrà posticipato alla fine dei lavori e non anticipato col cosiddetto salzero ad avvio del cantiere, come succede invece oggi.